Siamo in quattro, quindi ci sono io, che sono la voce, appunto la cantautrice che invento le melodie e le parole dei brani, poi c'è Gianluca che è il chitarrista e l'arrangiatore anche, insieme abbiamo scritto dei brani, anzi uno poi lo ascolteremo magari tra un po', che quello è stato il primo brano scritto interamente insieme, poi c'è Alberto Macerata che è al basso, che in quel momento si è occupato proprio di, siccome lui è un tecnico del suono, proprio di masterizzare tutto l'album, e poi c'è Enrico Battaglino che è il nostro batterista, quindi poi tutti insieme elaboriamo le nostre prime idee, diciamo, nasce poi dal bruco la farfalla, insomma, mettiamola così. e online